Il Cagliari ha subito la prima sconfitta dopo 11 partite positive sul campo dell'ultima in classifica. Il Palermo ha tuttavia vinto meritatamente soverchiando i sardi sul piano del gioco, dell'agonismo, della disposizione tattica e il punteggio sarebbe stato certamente più pesante se Albertosi, che appena ieri si era rimesso da un attacco influenzale, non avesse salvato la sua rete in almeno due occasioni. Alla mezz'ora prima grande occasione per il Rosanero, lunga discesa di Bercellino secondo con conclusione da distanza ravvicinata. Albertosi respinge e lo stesso Bercellino di testa colpisce la traversa. Dieci minuti dopo giunge il gol. Lo propizia Pellizzaro con discesa e serpentina sulla sinistra e poi con un traversone corto e basso. Troia in tuffo batte Albertosi dal limite dell'aria di porta. E al fischio finale, sugli spalti, una fiaccolata saluta la beneaugurante vittoria del Palermo, che questa sera non è più ultimo.